La macchina segue così un itinerario diverso da quello dichiarato dai fascisti. Sappiamo di lavorare per una causa giusta. Se anche noi dovessimo cadere, non per questo la nostra lotta sarebbe meno giustificata e meno necessaria. Ma sappiamo anche che la causa giusta per cui lottiamo coincide con le ragioni e le necessità della vita, che alla lunga prevalgono fatalmente sopra qualunque calcolo artificioso di uomini. Grazie a tutti. Giovanni Amendola morirà a Cannes pure un anno dopo, a causa dell'aggressione subita a Montecatini.